E' tutto il selfie, e guarda il selfie, ma che è il selfie, e tutti i selfie, ma che stiamo a fare, con sto coso in mano. E a tutti i selfie, in fuori i selfie, a scuola i selfie, in prof a selfie, ma che stiamo a fare, con sto iPhone, ma... Grazie a tutti.